La Fondazione Cosso ha presentato questa mattina, venerdì 10 giugno, un nuovo progetto espositivo legato all'arte e alla natura, una mostra dedicata a Pietro Porcinai, il più grande paesaggista italiano del Novecento, nell'anno in cui ricorre il trentannale della sua scomparsa. Da domenica, nelle sale storiche del Castello di Miradola, San Secondo di Pinarolo, saranno esposte fotografie e altre preziosi testimonianze dell'opera e della visione di questo straordinario professionista. La mostra è curata dalla Fondazione Cosso con la collaborazione di Paola Porcinai, figlia di Pietro, e Dario Fusaro, fotografo specializzato nel ritrarre parchi e giardini. L'esposizione traccia un affascinante percorso alla scoperta della figura di Porcinai, evocata alcuni temi centrali della sua opera, come il costante confronto con artisti e intellettuali contemporanei, la difesa del paesaggio e degli equilibri biologici, la ricerca della bellezza nella progettazione. Al Castello di Miradolo sono raccolte un centinaio di fotografie scattate da Dario Fusaro. Tra queste, il giardino di Villa Icollazzi a Firenze, il parco di Pinocchio a Collodi, oltre che la sede della casa editrice Mondadori a Segrate e Villa Recchia a Portofino. Un allestimento scenografico ritrae alcuni bellissimi disegni e opera del paesaggista realizzati durante la creazione dei progetti. Un prezioso contributo, infine, è quello dell'architetto Paolo Peirone, che arricchisce il percorso espositivo tracciando un ritratto di Pietro Porcinai e della sua intensa attività. Non c'è praticamente un servizio italiano di quell'epoca che mi sia stato disegnato da un cittadino. Quindi è un enorme lavoro, un enorme superficie italiana, da Trieste a Piemonte, da Piemonte al Napoletano.